Scatta la fase della presentazione delle offerte sul MEPA, la piattaforma della pubblica amministrazione per le cinque società che hanno presentato istanza di partecipazione al bando per la gestione e l'organizzazione della prossima edizione del Carnevale di Sciacca, scaduto il 2 novembre scorso. A partire da oggi pomeriggio le società interessate avranno una decina di giorni a disposizione per completare la procedura sul MEPA e di conseguenza già ai primi di dicembre si dovrebbe conoscere il nome di chi organizzerà il Carnevale 2024. Tra le cinque proposte presentate c'è come noto quella di Silvio Alessi, a capo dell'Agenzia di Comunicazione e Spettacolo Meridiana di Agrigento, che ha organizzato il Carnevale di Sciacca dello scorso mese di maggio, e quella della Futuris di Giuseppe Corona, società che si era giudicata all'organizzazione della festa nel 2020 che poi non si svolse a seguito della tragedia del piccolo Salvatore Sclafani. Una festa alla quale anche nel 2024 si potrà cedere solo dietro pagamento di un ticket d'ingresso, come è già avvenuto lo scorso anno, ma con la novità quest'anno che alle casse del Comune di Sciacca entrerà il 40% dell'incasso. Ci si è resi conto probabilmente dell'importo assai irrisorio dello scorso anno e pertanto è stata stabilita una percentuale maggiore dell'incasso complessivo derivante dal ticket d'ingresso che resterà al Comune. La macchina organizzativa, in vista della prossima edizione della manifestazione che tornerà a svolgersi a febbraio, è dunque pienamente in moto. E l'individuazione tra alcune settimane del privato che si occuperà della gestione, dell'organizzazione e di tutti i servizi legati alla festa, fa seguito all'ulteriore passaggio che si è consumato alcuni giorni fa, quando la Commissione esaminatrice, incaricata di valutare le proposte progettuali dei carri allegorici da ammettere alla prossima edizione del Carnevale, ha ultimato l'esame delle istanze pervenute dalle associazioni culturali, ammettendo tutte e otto le richieste presentate. Un'edizione come è noto che avrebbe voluto aprire alla partecipazione anche dei carri di categoria B, dopo anni di assenza dei minicarri dalla festa. Un tentativo è andato a vuoto, visto che l'unica associazione che si era presentata per realizzare un carro di fascia B, nonostante la valutazione positiva da parte della Commissione, alla fine ha rinunciato, sia per la mancanza di un luogo idoneo in cui realizzare il carro, sia per la mole dell'investimento economico necessario, di gran lunga superiore, hanno dichiarato i rappresentanti dell'associazione, alla cifra messa a bando dal Comune per i carri di categoria B. Il Carnevale di Sciacca 2024 si svolgerà in due fine settimana, sabato 10 e domenica 11 febbraio, e poi sabato 17 e domenica 18 febbraio, festa che si terrà sempre alla perriera lungo lo stesso percorso dello scorso maggio.